Preparatevi a diventare ponti, pacificando e integrando nella preghiera le tendenze ad affermarsi sopra gli altri, facendo crescere le realtà che incontrerete, ricordando che la vera autorità della Chiesa di Roma è la carità di Cristo. È il cuore del lungo discorso che Papa Francesco ha rivolto ai dadievi docenti della Pontificia Accademia Ecclesiastica, che prepara il servizio diplomatico per la Santa Sede. La sola forza che rende la Chiesa universale e credibile per gli uomini, ha sottolineato, è proprio la carità di Cristo. È il cuore della sua verità che non erige muri di divisione, ma si fa ponte che costruisce la comunione del genere umano. Non siete chiamati ad essere alti funzionari di uno Stato, una casta superiore, autopreservante e gradita ai salotti mondani, ma ad essere custodi di una verità che sostiene dal profondo coloro che la propongono e non il contrario. Coltivate radici profonde, non lasciandovi inaridire dai continui spostamenti, ha detto ancora il Papa ai futuri nunzi apostolici. Non fatevi imprigionare da logiche ricordate o assoggettare da poteri politici e colonizzare dai pensieri forti. La vostra missione, ha concluso Papa Francesco, richiede la ricerca di pastori autentici, veri uomini di Dio, paterni con coloro che sono loro affidati, uomini insoddisfatti del mondo, perché consapevoli della sua penultimità e della intima certezza che rimarrà sempre comunque bisognoso di quanto sembra disprezzare.